ciao a tutti e benvenuti su un nuovo vlog oggi sono in compagnia stamattina siamo andati a fare colazione al mcdonald avete visto la colazione già bella che avviata perché avevo fame e mi sono dimenticata che dovevo vloggare stamattina perché sono un piccolo genio adesso abbiamo finito di fare colazione andiamo a fare un giro devo fare delle commissioni devo comprare un po di cose vi porto con me ma io non ho detto a tutti sono marie chiara no vabbè prima tappa terra nuova adesso non si vede perché c'è si vede dove va questo dito l'altro giorno sono passate di sfuggito ho visto un costume che poteva interessarmi quindi adesso vado a vedere se ci sono le taglie perché fortunata come sono di solito ci ripasso non becco mai niente in caso lo prendo magari se riesco a provarlo anche lo provo dopo dopo devo andare a fare dei giri pure con mamma quindi vediamo insomma dove andiamo eccomi di nuovo questa è la mia impostazione sono tornata a casa ho fatto un po di giri con mia madre andavamo abbastanza di fretta quindi non ho ripreso niente sono le perché ancora non avevo detto nessun orario 12 e 25 penso verso luna luna e qualcosa pranzeremo vi farò vedere quello che mangeremo perché è una cosa tipica marchigiana di dove abito io quindi potrebbe interessare magari a chi non è marchigiano volevo fare una clip per spiegarvi più o meno il motivo per cui sto vloggando e che cosa andrei da vedere in questo vlog principalmente perché stamattina ero un po confusa ancora mi dovevo svegliare bene non ho spiegato allora in questi due giorni questo fine settimana è venuto un nostro amico a trovarci dalla toscana che poi magari vi presenterò se vorrà farsi vedere mi abbiamo organizzato il limite delle regole oddio sembro pelata così fatemi le versi occhiali dopo pranzo dovremo andare a fare una passeggiata non lo so dove di preciso poi dopo vi dirò organizzato tutto mio fratello se durerà un bel po ce la prendiamo con calma in giro fare video foto eccetera e vi porterò con me poi era vabbè niente di che mangeremo qui a casa vi farò vedere anche sempre la cena non vi spoilerò niente oggi che sto vloggando è sabato 15 maggio domani domenica la mattina andremo io abito a fabriano provincia di ancona città della carta per chi non lo sapesse aprono tipo gli archivi delle cartiere e si possono visitare infatti abbiamo la visita prenotata per le 10 se non sbaglio la cosa positiva è che fanno entrare massimo 5 persone alla volta noi siamo 5 quindi non troviamo assolutamente nessuno è in totale sicurezza e quindi andiamo a fare questa visita poi penso che faremo colazione non so dove per pranzo ci dirigeremo a mangiare fuori vi porterò sempre con me poi nel pomeriggio e nella serata non è organizzato niente non so quello che faremo però più o meno farò vedere due giornate quindi sabato e domenica il fine settimana spero che vi possa interessare vi porto con me vi faccio vedere qualcosa di nuovo e questa volta vi porto al di fuori della mia casa per carità non tutti i fini settimana facciamo cose del genere ne approfittiamo col fatto che appunto c'è questo nostro amico per farlo girare fargli vedere un po di cose nel frattempo che aspetto l'ora di pranzo vi volevo fare vedere il costume che ho preso giusto così se a qualcuno può interessare pezzo di sopra e pezzo di sotto ho speso in totale 18,95 perché avevo un euro di sconto pezzo di sopra costava 9,99 pezzo di sotto ho preso il set completo ero indecisa perché il pezzo di sopra non mi faceva tanto impazzire però alla fine ho detto vabbè lo prendo perché poi non so che abbinarci perché pezzi di sopra completamente neri non li ho più sul marrone però è molto più verde militare non so come farvelo vedere pezzo di sopra così semplicissimo a triangolo c'è anche la coppa che è estraibile dentro se si vuole levare il pezzo di sotto è sempre il stesso colore mutanda semplicissima un po a vita alta a brasiliana la taglia ho preso una seconda sopra e un xs sotto perché due anni fa l'ho presi nero sempre brasiliana però appunto era un po più a vita bassa e il problema è che si allarga quindi ho preso una xs in modo che poi quando se si dovesse un po rovinare tanto voglio dire 10 euro almeno non mi sta troppo grosso niente basta ecco vi volevo fare vedere questo poi piano piano se comprerò altre cose magari nei vlog o nei video mentre mi trucco vi faccio vedere quindi niente io vi faccio vedere direttamente il pranzo adesso devo sistemare un po di cose qua la camera eccetera devo fare cose un po' noiose quindi credo che vi possano interessare ci vediamo direttamente con il pranzo vieni qua Simone ho cominciato allora vi faccio vedere quello che sta preparando mio fratello innanzitutto qui c'è la salsiccia la panna perché le pincinelle si fanno con salsiccia e panna di solito e funghi ma ci avete messo i funghi fai vedere le pincinelle queste sono le pincinelle fai vedere la tenuta da cuoco diamo la lo sponsor ti presentiamo contattare mauro simoncini su instagram fotografo e videomaker mi rubano il canale mi rubano la mamma che fa le fragole buone le fragole dopo il pranzo che avete visto tra l'altro buonissimo e anche tanto perché in realtà il piatto che vedete è la metà di quello che ho mangiato adesso l'idea nostra è di partire subito dopo pranzo per andare appunto a fare questa passeggiata quindi io un attimo vi trucco velocemente con voi faccio una cosa super easy super veloce vi volevo fare vedere quello che facevo quindi come prima cosa in realtà l'ho già applicato prima ma lo vado un attimo a rimettere il ritual fixing mascara di astra mi vado a pettinare le sopracciglia poi correttore vado con il correttore di maybelline l'instant anti age nella colorazione a 0,2 nude come al solito metto qui e qui stendo con un pennellino per uniformare meglio vado sempre a prendere la spugnetta e vado a tamponare il correttore ultimamente sto usando questo metodo mi ci sto trovando davvero bene perché così riesco a sfumare meglio il correttore senza far vedere troppo il distacco cioè adesso si vede qui sono un po' più arancione poi con la cipria appunto bianca che uso si vedrà ancora di meno come cipria vado ad utilizzare l'instant fix and matte questa qui l'aprerevo con un pennellino la vado a picchiettare nella zona del contorno occhi con un pennello un po' più ampio vado sempre con la cipria mascara questo qui di essence il get the lashes volume curl dopo aver applicato il mascara l'ultima cosa che vado a fare è come al solito prendo la matita marrone io ho la professional eye pencil di Astra vado a colorare faccio la solita lineetta qui per allungare lo sguardo dai si ci può stare finisce qui anche perché devo andare su per i monti quindi non è che devo fare chissà che cosa adesso mi cambio e vi faccio vedere come vi vesto questo è il nostro outfit io gli ho messo i leggings quelli presi su Shein mio fratello ha vestito tutto sportivo come quando va a correre che in realtà la facciamo di corso no che facciamo di corso con tutte le pincinelle che ci siamo mangiati moriamo io ho la mia maglietta Carps and Friends bellissima stiamo per partire tra pochissimo no li devo far vedere io ho il microfono ma non ho l'attacco per attaccarlo sul telefono non ho nessun tipo di attacco quindi mi sono dovuta ingegnare e attaccare tutto così cioè davvero e per la prima volta userò il gatto morto che è questo qui questo peluche da attaccare sul microfono adesso dentro casa non sto usando il microfono perché è più comodo tanto si sente bene lo stesso che appunto in teoria dovrebbe servire apposta per fare i vlog all'aperto per isolare il rumore del vento delle persone che parlano e quindi dovrebbe catturare solo la mia voce in teoria adesso proviamo perché non l'ho mai provato e niente cioè non so fa super figo tipo professional ma sempre ispirato tipo quelli che fanno le interviste che si vede il microfono da sopra bene siamo in postazione ne manca uno affacciati tu dietro affacciati bene siamo tutti pronti in postazione per partire potete anche salutare tipo dire qualcosa ciao ciao questo se n'è andato è partito mio fratello andiamo dove sei andato? a prendere la mascherina perché? perché me lo sono scordata in galera ma puoi anche rallentare c'è 60 fotogrammi a me devi inquadrare eh? c'hai 60 fotogrammi al secondo che vuol dire? cioè puoi rallentare puoi fargli lo so io non lo so quello che posso fare sto facendo video a casa ciao Gianni ehi sono proprio io sì siamo qui nella natura mi piace? bello però volevo che qualcuno di voi due cadesse non è stato abbastanza divertente lo faccio cado vai cadi 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 come ne fai? uffa il nostro intrepido eroe sta per scalare una difficile salita ce la farà o no anche con l'aiuto ce l'hanno fatta ora ci lasciano qui e se ne vanno ciao stiamo per addentrarci nel buio più totale queste sono le classiche scene dei film della strada che non si deve prendere ecco è dietro accesso ottimo allora zitti ci siamo fermati un attimo perché i due videomakers ovvero Gianni e Mauro che sta qua saluta Mauro ciao volevano provare a fare volare il drone il drone che sta qui adesso vi faccio vedere mio fratello sta facendo il cretino penso che si sente dal rumore e se ne andò dov'è? non si vede niente qua c'è una chiesetta carina carina e qui è tutto 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 così chi è? chi è? chi è? ce la fanno a fare un video drone al drone? secondo te? se riescono a fare dei video decenti questi due videomakers vediamo se sono dei veri videomakers magari integro nel blog qualche video dall'alto capitano cosa vede? niente non c'è niente solineiamo il fatto che è te te è caldo si comunque aggiornamento sono le 8 e 19 siamo quasi arrivati al punto dove abbiamo lasciato la macchina per poi tornare indietro perché comunque è una passeggiata siamo partiti verso le 4 e mezza ci avremmo messo troppo a ritornare indietro a piedi quindi abbiamo lasciato la macchina in un punto siamo quasi arrivando e torniamo a casa e andiamo a cena normale e vi faccio vedere quello che mangiamo finalmente siamo tornati a casa sono precisamente le 9 e un quarto da quando siamo arrivati alla macchina abbiamo lasciato gli zaini chi aveva gli zaini abbiamo fatto un altro pezzettino una mezz'oretta di strada poi siamo ritornati indietro un'altra mezz'ora nella macchina e adesso siamo tornati a casa quindi abbiamo messo un'ora precisa o mi vado a buttare in doccia velocemente e poi mangiamo oppure mangiamo e poi mi faccio la doccia ma credo che se riesco la faccio subito poi niente vi faccio vedere cosa mangio a cena e ci vediamo direttamente domani mattina buongiorno sono le 10 e 01 ci stiamo dirigendo al Fabriano Paper Faviglio l'archivio storico delle cartiere Fabriano facciamo questo tour non so se posso riprendere all'interno chiederò quindi niente in caso sennò c'è direttamente dopo smettila non so se posso riprendere all'interno abbiamo finito il giro più o meno abbiamo impiegato un'oretta e mezza tra tutto sono riuscita anche a fare foto, video che poi vi metterò vi scrivo anche magari qualcosa nei video non ho fatto la registrazione alle guide che parlavano comunque niente la cosa bella è che erano tutte guide spero mi sentiate aspettate erano tutte guide giovanissime delle scuole liceali e comunque istituti di Fabriano è stato bello perché è una bella iniziativa appunto fatta dal FAI non so se l'avevo detto adesso penso che andremo a fare colazione perché sono le 11 e mezza un pochino tardi mi hanno abbandonato niente mi hanno abbandonato forse andremo a fare una colazione veloce anche perché poi dobbiamo andare verso Perugia a fare pranzo loro mi avevano abbandonato hanno tagliato niente il mio cornetto è arrivato dopo loro hanno bellamente già finito siamo arrivati a Perugia e andiamo a mangiare da passatempo bbq vi faccio vedere quello che mangiamo cioè se vedi sempre solo Johnny in rinquadratura faccio vedere anche un po' dei femmine per favore Johnny senti che profumo con la lette siamo arrivati alla fine della giornata siamo tornati a casa ormai da un pochino per vedere quello che abbiamo preso tutto buonissimo per me era la seconda volta che ho mangiato in quel posto mi è piaciuto tantissimo niente probabilmente ci ritorneremo sperando sempre la questione covid il tempo purtroppo quello oggi è stato un po' bruttino perché ha piovuto tutto il tempo e con appunto il fatto che bisogna mangiare all'aperto sì noi avevamo il tavolo molto distante dagli altri tavoli sotto un tendone solo che ci è arrivata anche un po' un po' l'acqua però questo purtroppo non è colpa dei ristoratori non è colpa del ristorante il meteo non si può non si può scegliere se no per me cioè se potessi sarebbe sempre estate a parte il meteo che purtroppo ci è andato un po' a sfavore e non è stato il massimo infatti anche poi dopo pranzo siamo andati a fare una passeggiata però siamo rimasti sempre in macchina cioè ci siamo fatti un giro in macchina fondamentalmente sono le 6 praticamente non mi si attiva l'orologio sì sono le 6 siamo tornati da boh una ventina di minuti a casa più o meno abbiamo fatto un giro però non ho ripreso niente perché non c'era niente di che tu sia smante da vedere anche perché dalla macchina alla fine non è niente di che era solo giusto per stare un po' insieme e non tornare subito a casa adesso non so quello che faremo il tempo un po' si è aggiustato non so se magari vogliamo fare due passi in centro qui giusto per camminare non so se magari ci vogliamo mettere a fare qualche gioco da tavola comunque qualcosa organizziamo poi stasera mangiamo a casa penso che mangeremo una cosa tranquilla perché in questi giorni abbiamo mangiato tantissimo e sempre cose super buone cioè fondamentalmente la giornata e il vlog di questo fine settimana di queste due giornate sabato e domenica è finito in realtà credo proprio che vi saluterò adesso io spero tantissimo che vi abbia intertenuto questo vlog che vi siate divertiti che è stato magari carino passare questo fine settimana insieme a noi e noi perché alla fine c'erano anche appunto il fratello la ragazza il mio ragazzo e questo nostro amico spero che sia stato interessante io come al solito vi saluto però vi volevo appoggiare da una parte perché come come faccio adesso aspettate oh ecco meglio mi ho appoggiato per fare il saluto quindi niente come al solito io vi saluto vi salutano anche i ragazzi di là i miei compagni di avventura di questo fine settimana come al solito mi raccomando se il video vi è piaciuto ormai lo sapete è di prassi mettete un bel pollice in su a questo video iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdere i prossimi video sia video make up che video try on all quello che faccio io di solito e anche altri vlog ripeto spero che questo vlog di questi due giorni del fine settimana vi sia piaciuto ho detto tutto ah no non ho detto tutto andatemi a seguire sul mio profilo IG vi lascio il nome qui da qualche parte mi trovate come Maria Sciara come al solito detto questo io vi saluto e noi ci vediamo nel prossimo vlog video oh oh woohoo si vede niente assolutamente proprio niente aspetta un attimo se il vlog è lei che pulisce la fotocamera poi sto vloggando loro urlano ma che gliene frega dai trippa questo non ce lo metterò dai alla natura ciò che è della natura vero Simone? non ti girare di scatto questo lo metto nel vlog io sono quella che ha fatto il video con Maria Chiara quando abbiamo cantato le cose ma qua io non la conosco è la prima volta che la vedo niente adesso penso che o mi vado a fare la dolce e poi mangiare fa casino questo fa casino mi vuole boicottare le vlogs ah mi si è incracciato il dito ah aia aia si è video make up aia